Una visita all'impianto di trattamento della frazione umida di Salerno è quella organizzata dal Circolo di Lega Ambiente Salerno Orizzonti. Una giornata aperta alla cittadinanza promossa e organizzata con la partecipazione dell'amministrazione comunale. Il trattamento della frazione umida è tra i tasselli più importanti di una corretta gestione dei rifiuti urbani. Essa infatti corrisponde alla parte più deperibile e dunque più difficile da gestire. Inoltre la sua separazione dal resto dei materiali consente un minore impatto ambientale e soprattutto la realizzazione di un materiale dalle mille proprietà. Ma ascoltiamo l'assessore all'ambiente del Comune di Salerno, Gerardo Calabrese. Ritengo positive queste visite proprio perché molto spesso c'è ignoranza in materia, nell'accezione buona del termine, quindi dare trasparenza, far vedere come viene lavorata la frazione organica rassicura anche il cittadino. Del resto qui nell'impianto di compostaggio di Salerno viene trattato il rifiuto organico prodotto sulle tavole dei salernitani quotidianamente. Oggi l'impianto tratta solo l'organico prodotto a Salerno. Tra l'altro in campagna ancora non ne sono stati realizzati altri, eccezione fatta per quello di Eboli che è entrato in funzione da qualche mese ed è auspicabile che ne vengano realizzati altri quanto prima. La visita all'impianto è stata voluta proprio per offrire l'opportunità a tutti di visionare il ciclo dei rifiuti e toccare con mano l'importanza dell'impegno che ciascuno si assume nei confronti dell'ambiente, a cominciare da casa propria. Ascoltiamo Elena Maciocchi, Lega Ambiente Salerno. Siamo molto contenti che nonostante sabato mattina la presenza è massiccia e partecipata. È un momento di consapevolezza, è un momento per capire che cosa succede quando noi ci impegniamo nella corretta gestione della raccolta differenziata e l'organico che è uno dei materiali più difficili poi da tenere in casa diventerà ancora una volta una risorsa preziosa per il nostro pianeta.